Noi purtroppo dobbiamo lottare fino alla fine perché qualche limite lo abbiamo e quindi dobbiamo lottare. Mi dispiace tanto per il lavoro che fanno i ragazzi durante la settimana, una squadra che è dall'anima in mezzo al campo. Mi dispiace un po' per loro. Noi sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine e quindi lotteremo. La classifica mi preoccupava prima, mi preoccupa adesso e mi preoccuperà a marzo. Noi dobbiamo fare la corsa su di noi. Io non penso che siamo una squadra che non abbia possibilità per non salvarsi. Io penso che la nostra squadra è una buona squadra, una squadra che ha bisogno secondo me di un po' di fortuna. Se me l'ha detto la tifoseria la conosciamo tutti e va applaudita. Perché è una squadra che viene a Teramo con mille persone e da provvedere. Non è da meno il Teramo. Peccato che ci sono questi due tronconi di tifo che si sono un po' separati. E questo mi dispiace tanto perché se erano più uniti forse era una bella risposta anche alla curva della San Benedetto. Se mi dispiace veramente tanto perché qui il bene al Teramo lo vogliamo tutti. Quindi non è che c'è qualcuno. Poi ci sarà la critica ed è giusto che ci sia la critica. Come potessi che a volte siamo stati applauditi ed è giusto che quando siamo applauditi. Oggi sicuramente stiamo un po' in sofferenza però siamo forti per reagire. Chi ci conosce ci conosce bene. Grazie. 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 Grazie.